Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Shaila Gatta, ex velina di Striscia la Notizia, è al centro dell'attenzione nella nuova edizione del Grande Fratello, a causa di un presunto triangolo amoroso con i coinquilini Lorenzo Spolverato e Javier Martinez. Entrambi sembrano interessati alla ballerina, ma è Lorenzo che ha mostrato atteggiamenti tossici e gelosi, preoccupato che Shaila lo rifiuti. In una recente puntata, la Gatta ha difeso il suo status di donna single e libera di flirtare con chi vuole, scontrandosi con l'opinionista Beatrice Luzzi. Nel frattempo, l'ex fidanzato di Shaila, Alessandro Rizzo, ha replicato alle voci sul loro rapporto tossico e manipolatorio. Durante la puntata del Grande Fratello del 24 settembre, Shaila ha difeso il suo diritto di flirtare e scherzare con chi vuole, sottolineando che ha avuto esperienze passate negative in amore. Ha raccontato ai coinquilini di un ex fidanzato che la umiliava e controllava senza farla sentire apprezzata, senza nominarlo, ma facendo capire che si riferiva ad Alessandro Rizzo. Quest'ultimo ha risposto pubblicamente alle accuse di Shaila, sostenendo che lei abbia inventato storie sulla loro relazione. La puntata ha visto anche uno scontro tra Shaila e Beatrice Luzzi, con quest'ultima che ha criticato l'atteggiamento della ballerina verso gli uomini. Shaila ha risposto con fermezza, difendendo la sua libertà di comportarsi come desidera. Il pubblico ha appoggiato la velina, considerando il commento di Luzzi maschilista. La battaglia tra le due sembra appena iniziata. La battaglia tra le due sembra appena iniziata. Grazie a tutti.